Sorpreso con le mani nel sacco, ha tentato la fuga tra i campi fangosi, ma dopo un lungo e difficoltoso inseguimento a piedi è stato arrestato dai carabinieri. È successo ad Anghiari, nella frazione di Tavernelle, dove il ladro, un 35enne di origine nigeriane, è stato notato da un passante mentre si introduceva in un'abitazione. Immediato così l'allarme alle forze dell'ordine è arrivata in pochi minuti sul posto. Alla loro vista l'uomo ha tentato di darsi alla fuga nei boschi circostanti, attraversando alcuni campi nonostante il terreno infangato e reso scivoloso dalla pioggia. I carabinieri non l'hanno mai perso di vista e si sono lanciati nel difficoltoso inseguimento. Il 35enne ha anche cercato di guadagnare la fuga in sala ad una bici trovata nei pressi di un casolare. I due militari alla fine l'hanno raggiunto. C'è stato uno scontro fisico nel quale un carabiniere si è ferito. Alla fine il 35enne è stato immobilizzato e ammanettato. Dovrà rispondere dei reati di furto, resistenza e violenza e lesioni a pubblico ufficiale.